a la mogordo deserto del nuovo messico 16 luglio 1945 5 30 del mattino openheim con il gruppo di scienziati che da due anni lavora il progetto manhattan fa esplodere la prima bomba sperimentale americana la liberazione di energia ottenuta nel reattore di fermi si verifica istantaneamente sotto forma di esplosione il vento atomico la paura investe da questo momento l'umanità a posdam il pomeriggio dello stesso giorno il presidente truman succeduto allo scomparso roosevelt riceve un biglietto il bambino è nato bene il bambino è la bomba atomica 17 luglio in un'atmosfera di formale cordialità ha iniziò la conferenza di posdam per la recente scomparsa di roosevelt e l'abbandono di churchill che lascia il campo ad atli per aver perso le elezioni nel suo paese stalin si trova in una posizione di forza sono passati solo due mesi dalla fine della guerra in europa si discute sul futuro assetto della germania e sulla sua spartizione le truppe di stalin avevano già occupato i territori della polonia che erano appartenuti alla germania e le sue truppe forti di milioni di uomini stanziavano ancora in europa e qui a posdam a pochi chilometri da berlino che entra in scena nella storia contemporanea la bomba atomica come in una partita di poker truman butta sul piatto la notizia preso stalin in disparte gli comunica che avevano fatto esplodere la prima arma atomica nel deserto del new messico stalin con stupore di truman non batte ciglio sa che l'informazione è tisa ad alzare il prezzo della pace nel riassetto dell'europa il cremlino sapeva